Match esterno domenica per la Eppi Casa Brindisi che affronterà nell'Allianz Dom di Trieste la formazione giuliana allenata da Eugenio Dalmasson. I biancorossi con quattro punti fanno parte del gruppone di centro classifica avendo due vittorie e due sconfitte. Inizio non proprio fortunato per la compagine del presidente Ghiacci che ha dovuto rimpiazzare prima Udanò, infortunatosi al ginocchio destro nei giorni scorsi, e poi Daniele Cavaliero alle prese con una fascite plantare. Subito la dirigenza triestina si è messa in moto tornando sul mercato e tesserando l'ala argentina con passaporto italiano Marcos Delia ex Virtus Bologna e il play Federico Mussini lo scorso anno a Pesaro. Tuttavia un roster giovane, quello affidato a coach Dalmasson, che ha nella guardia Milton Doyle il miglior marcatore, 16 punti di media, un esterno, che ama più le soluzioni dalla lunga distanza che un tiro dal perimetro. Regista del quintetto base è Fernandez, 0 punti domenica scorsa contro Brescia, giocatore poco costante nel rendimento, ma pericoloso se inizia a mettere dentro i primi canestri dai 6 ai 75. Nel ruolo di ala piccola gioca Alviti, specialista del tiro da 3 punti, per lui parla il suo 47% nelle statistiche di squadra. A fasi alterne le prestazioni dell'ala Grazulis, che non ha un buon feeling col tiro dalla distanza, ma da 2 punti viaggia con discrete percentuali. A chiudere il quintetto base il pivot Apson, non un lungo dalla mano educata, ma rognoso sotto i tabelloni. Parte dalla panchina il secondo play, Tommy Laquintana, pugliese doc nativo di Monopoli, genio esregolatezza, terzo realizzatore del gruppo bianco-rosso, bravo nel creare dal palleggio le soluzioni personali. Cambio dei lunghi e Matteo da Ross dal 2016 a Trieste, pochi punti nelle mani, ma molto spigoloso in difesa. Fa parte del roster anche il brindisino Andrea Arnaldo, anno 2002, una scommessa del club Giuliano. Sulla sponda bianca-azzurra non ci sono particolari problemi di infermeria, con coach Frank Vitucci, che chiederà da subito il suo in massima concentrazione contro l'avversario ostico. Nell'Allianz Dom, palla in due ore 19.30, arbitri Lorenzo Baldini di Firenze, Guido Giovannetti di Terni e Marco Vita di Ancona.